buongiorno a tutti sono corrado di società veneta ferrovie oggi vi racconto di come ho risolto un problema assorto dopo anni di utilizzo del motore tortoise che qui vedete secondo me è un prodotto eccezionale per questo video per comodità useremo dei motori senza la placca guida ago questa che vedete prendiamo quindi un motore da me usato per quasi 20 anni attenzione ecco vi dico subito una cosa leggete bene se lo smontate perdete la garanzia sinceramente non so quanto dura qui sono passati 20 anni quindi sono anche tranquillo ho già tolto le viti sono quasi completamente tolte sono cinque ecco le togliamo questo motore che ha come pregi un bassissimo consumo la possibilità di rimanere sempre in tensione consumando poca corrente la robustezza poca nulla manutenzione e due switch interni i difetti sono l'ingombro e il costo perché andiamo mi pare sui 25 28 euro ora che il dollaro è alto visto che lo producono negli stati uniti osserviamo l'interno bene ci sono tre ingranaggi per la demoltiplica più un asse con due ruote dentate all'estremità ecco questi sono gli ingranaggi per la demoltiplica che vi dicevo adesso aspetta ecco questo è come avviene il funzionamento dei due switch cioè c'è una basetta con le piste per la distribuzione della corrente dopo le vedremo nello specifico vediamo il funzionamento cioè le lamelle strisciano e chiudono aprono i contatti dei due switch quella dicevamo è un altro ingranaggio un asse con due ruote dentate la basetta con il motore il braccio oscillante con le lamelle che strisciano ecco qui adesso si vedono bene per quale motivo dovremmo fare la manutenzione a questo motore dopo tanti anni di utilizzo perché dopo anche questo ve lo spiegherò meglio ma vi anticipo come potete vedere ci sono delle strisce in corrispondenza del passaggio delle lamelle a lungo andare creano una una resistenza io ho 25 motori le ho dovuti smontare tutti effettuare la pulizia perché le lamelle quando strisciavano trovavano poi trasmettevano della resistenza per colpa della sporcizia accumulata che vi ho fatto vedere lungo proprio la linea di strisciamento ecco questi sono gli ingranaggi che devono essere sempre puliti dentini devono sempre sempre puliti una cosa mi raccomando non girate a mano con la mano il braccio oscillante il motore cioè non azionate la mano perché si può può rompere questo gesto può far rompere ingranaggi eccolo in funzione possiamo apprezzare la lentezza del movimento regolabile in base al voltaggio qui sto dando 9 volt potete darne anche meno se volete per allentare la corsa leggete bene le istruzioni ovviamente ecco 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 la dimostrazione di quanto consuma durante l'alimentazione ecco queste sono le istruzioni che vi dicevo di leggere attentamente basta dare una semplice corrente continua 12 volte o meno non occorre filtrata non occorre che sia filtrata e ogni motore tortoise consuma assorbe a 12 volta al massimo 15 16 miliamperi in questo caso 9 volte ne assorbe 13 che è veramente poca roba assorbe intendo a fondo corsa cioè voi potete lasciarlo sempre andare non occorre fare un circuito che toglie la corrente mettete un semplice interruttore a due posizioni e qui le potete vedere le due posizioni qua invertiamo la polarità ovviamente si inverte la direzione della corsa e lo potete lasciare tranquillamente alimentato perché ripeto non è come altri motori che rischiano di bruciarsi o che bisogna e quali bisogna togliere la tensione questo è la dimostrazione la conduzione elettrica attraverso uno dei due switch come potete vedere passa attraverso il giallo e il nero il coccodrillo giallo e nero vedete la pista corrisponde a un polo in questo caso il giallo e le altre due le altre due piastre che vedete sopra corrispondono alle due posizioni quindi destra o sinistra uno scambio quindi corretto deviato oppure dritto assorbimento che qui voglio farvi vedere scusatemi la resistenza che stiamo vedendo 0,8 ohm è la resistenza che corre attraverso la pista e le lamelle che vi facevo vedere prima no lamelle che nel caso del motore sotto che è nuovo non c'è assolutamente nessuna resistenza in questo caso qui invece motore vecchio di 20 anni resistenza ce n'è ahimè e come e quando operi con il digitale può dare molto fastidio perché queste lamelle quando strisciano quando strisciano sulla pista devono condurre assolutamente senza resistenza ecco e questa è proprio la prova di quello che vi dicevo prima questo è il motore vecchio l'ho rimontato guardate 19 ohm significa che se io polarizzo il cuore di uno scambio provate immaginare polarizzo il cuore di uno scambio e ci passa sopra un treno a bassa velocità ci siamo già capiti cosa succede sfarfallamento alla peggio si ferma non va bene assolutamente ripeto questa operazione di pulizia che ho fatto dopo tanti anni e tanti anni di egregio lavoro perché ripeto per me sono prodotti assolutamente eccezionali lo apriamo bene ecco qui ecco la nostra piastra il nostro problema io ho fatto già vedere prima la sporcizia però vediamo pulire io ho usato una normale gomma pulisci binari della rocco pulire bene a fondo senza sforzare guardate questo sistema che ho usato io è se qualcuno ne conosce uno migliore può scrivere nei commenti volentieri finito di fare questa operazione qui i motori hanno ripreso funzionare e funzioneranno per tanti altri anni sicuramente quindi facciamo una bella pulizia sempre con la gomma rocco di tutte quante quelle piste che avete quei segni che avete visto che sono stati lasciati sulla pista adesso qui sto cercando il fioc e io pulisco con del contofioc e poi ho usato adesso qua per fare veloce non vi ho fatto vedere tutto ma in realtà ho usato anche userò anche uno straccio con del detergente a base di alcol per pulire bene ecco adesso guardate come vanno pulite le lamelle attenzione perché sono delicate non si può forzare più di tanto io ho usato il cacciavite come base così e poi piano 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 con la gomma rocco do una pulita alla parte che striscia sulla basetta così ripeto senza forzare quindi col cacciavite attenzione a non forzare troppo in alto perché si rischia di staccare le lamelle una passata con il cotton fioc magari potete bagnarlo con diluente che vi dicevo no diluente scusatemi con detergente eccolo qui pulito perfetto pronto per essere rimontato eccoci qui con tutti i nostri pezzi quindi la basetta con il motore la semplicità incredibile veramente i tre ingranaggi nelle loro sedi nel giusto verso impossibile sbagliare ok l'asse che vi dicevo con due ruote dentate l'estremità e il braccio oscillante guardate come va messo si inserisce bene quel perno eccoci qua si prova si fa girare e si chiude qua si inserisce dove c'è il taglio eccoci qua la prova finale via ecco 0,7 ohm praticamente nulla pronto per altri 20 anni di duro lavoro ricordatevi non mi stancherò mai di dirlo ricordatevi di stare attenti alla garanzia e alla sua durata quando lo comprate se c'è un problema ve lo fate cambiare ovviamente perché nel momento in cui ci mettete le mani rompete l'etichetta di carta ovviamente la garanzia non vale più leggete bene le istruzioni sono veramente chiare vi dicono come alimentarlo in corrente continua corrente alternata come collegare gli switch ed altro ancora sono informazioni complete c'è tutto è scritto bene in modo chiaro bene signori grazie a tutti per l'attenzione mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel like spero vi sia piaciuto visitate il nostro sito internet mi raccomando ci sono tante altre cose interessanti buonasera a tutti ciao ciao ciao